Si è tenuta domenica 14 novembre la prima tappa del campionato nazionale Union Fighters alla quale hanno preso parte gli atleti della ASD Fight Club Agropoli, Aurel Distasi, Carmine Marciano, Francesco Buonora, Materazzi Costabile, Mattia Papa, Emilio Marciano, Daniel Ruggiero e Daniel Spanò. Ottimi risultati portati a casa di cui quattro primi posti, due secondi e due terzi. Il coach Giuseppe De Francesco, lottatore professionista di MMA, si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti dai suoi atleti e crede fortemente in una grande crescita di questo sport sul nostro territorio.